Malaisi è l'amministratore delegato della Marina di Cattolica, che ha ospitato la Coppa Italia, che è ventestato questo per l'Images 24 e una cattolica che si è confermata una località ventosa e ha regalato divertimento a tutti. Io continuo a dire che dopo tanta esperienza sul Tirreno, posso dirlo in tante parti, perché sono un regatante che viene da un'esperienza di regata di purtroppo tanti anni, posso dire che l'Adriatico, dove ho cominciato io ad andare a vela, si conferma come uno dei campi di regata in certi luoghi dove le termiche sono più regolari che in qualsiasi altro posto, dato le spiagge che ha alle sue spalle. Per quanto riguarda Marina di Cattolica, noi abbiamo costituito il Yacht Club Marina di Cattolica che quest'anno, appena nato, non ha ancora compiuto un anno, ha già organizzato quattro manifestazioni, di cui tre a livello nazionale. Abbiamo ospitato i Images 24, i 2.4 e i MUM 30 all'inizio della stagione. Siamo nel nostro piccolo fiere di quel poco che stiamo facendo, continueremo così perché sono convinto che lo sviluppo della nautica passi sicuramente attraverso la parte ludica e sportiva della nautica stessa, c'è la vela, anche perché sono un appassionato praticante, ritengo che sia la parte più divertente, più pulita, più bella dello sport sull'acqua. Oltretutto appassionato, ma anche factotto, come abbiamo visto in acqua, mettere le boe, spostare le boe, insomma è un'attività che state creando, alla quale state cercando di dare un impulso forte, un impulso veramente da appassionati. Sì, siamo molto appassionati, stiamo adeguandoci ai nuovi tempi in cui i danari degli sponsor mancheranno sempre di più, per cui noi già siamo pronti ad affrontare le difficoltà economiche, dandoci tutti da fare e questo è un circolo appena nato ma in cui tutti quanti ci adoperiamo per organizzare le cose senza delegare niente a nessuno. Un pensiero su Marina di Cattolica, che porto è? Se ce lo puoi descrivere brevemente. Molto brevemente è un porto salotto, molto piccolo rispetto agli standard dei porti turistici, perché ha soltanto 200 posti barca, su un taglio di posti barca un po' grandi, inusitatamente grandi per l'Adriatico specialmente, però grandi tra virgolette, perché poi abbiamo posti di 10-12 metri, 15 metri quindi per gli utenti chiamiamoli normali, poi data la vicinanza a certi cantieri importanti della nostra costa abbiamo dovuto tenere posti anche di 50 metri per le barche importanti che vengono prodotte da queste parti. Sicuramente è di difficile gestione, un porto così piccolo, dobbiamo stare molto attenti ai costi, ma insomma abbiamo un'esperienza che ci consente di affrontare abbastanza serenamente questa prova. Tra l'altro c'era qui Paolo Testolini, l'abbiamo visto lungo le banchine, Presidente della classe, stava facendo una perlustrazione per un'eventuale tappa Volvo Cup 2011. Certo, noi siamo pronti appunto perché in base anche a quello che ho detto fino adesso ritengo che essere vicini comunque ai regatanti, a chi pratica lo sport sull'acqua sia la nostra missione, che è anche il nostro lavoro, ma comunque la nostra missione di sportivi e di un circolo amatoriale e sportivo.